ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il video che aspettavano in tanti ragazzi il video in cui dichiaro il giorno in cui si farà questo evento tuning dove il partecipante andrà a vincere un account modato il partecipante nel senso il vincitore comunque l'evento si svolgerà domani pomeriggio alle 6 vedete in data il giorno e l'ora quindi chi vuole partecipare vada al link in descrizione di questo video commenti il video con partecipo e mi aggiunga su psn in maniera tale che io posso rintracciare la persona che vuole partecipare all'evento e poi che altro dire ragazzi per partecipare a questo evento comunque compariranno in descrizione non in descrizione ma in seguito nel video tutti i requisiti allora comunque dicevo per partecipare all'evento dovete iscrivervi al canale prima di tutto condividere i miei video e commentare anche per aiutarmi un pochino a crescere insomma no quindi quella è la prima cosa che dovete fare poi come ho detto lascio il link in descrizione del video quindi andate lì e vedete poi dovete avere un'auto lo rider ragazzi modificata a vostro gusto non serve che modificate con modifiche costose perché tanto i giudici non andranno a valutare le modifiche costose ma andranno a valutare le modifiche più belle quindi non serve che compriate grandi modifiche o cose comprate quello che volete o quello che vi piace di più a voi quindi le auto andranno valutate per questo per partecipare a questo evento come ho già detto solo auto lo rider non sono ammesse altre auto e ci sono un paio di regole ragazzi i requisiti li avete appena visti nel video la prima regola comunque di non sparare in sessione o di uccidere altri partecipanti per non creare scompiglio e la seconda regola ragazzi è una regola abbastanza semplice che comunque facilita la convivenza in sessione di tutti è il rispetto verso gli altri partecipanti e verso i giudici che giudicheranno l'evento detto questo ragazzi andate al link in descrizione se volete partecipare all'evento a questo ragione se volete vincere l'account e niente ragazzi non ho nulla da aggiungere per questo video è tutto un saluto da mazzi al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.